Sembrava quasi che per Madonna stava per arrivare il peggio, sembrava quasi che Madonna la giovane pop star per eccellenza potesse andare a morire, in realtà per fortuna non è andata così. Infatti sembra che sia in via di guarigione, la cantante ha fatto sapere di stare meglio e di essere pronta a tornare al palco, al palcoscenico musicale, più forte di prima e più guarita che mai. Però il San fa sapere che ci sarebbe già il testamento da parte dell'artista e sarebbe già pronto ad andare a seminare il panico, la paura tra quelle persone che in qualche maniera pensano che Madonna effettivamente parlando si sia ripresa. Comunque ha stilato l'ultima porotta, ha seguito anche delle cose d'urgenza che a fine giugno l'ha coinvolta per quanto riguarda un'infezione di tipo batterico. Infatti ha voluto fare il testamento mettendo nero su bianco quello che vorrebbe che fosse fatto quando un giorno non ci sarà più e quindi sarà, idealmente parlando, passata a miglior e miglior esistenza. Va bene? E vorrebbe lasciare che la sua proprietà venga sprecata tra i membri della famiglia che litigano e vuole condividere in maniera equalitaria e uguale i diritti sulle tracce musicali tra i suoi figli. E vuole regalarli un po' al manager di grande data, ossia Guy Useri, come ringraziamento ultimo per essere stata vicino a lei sempre e comunque. Bene, nei momenti brutti ma anche nei momenti belli che la vita ha offerto. Sarebbero queste le ultime volontà testamentarie di Madonna. Va bene? La famosa pop star inglese per eccellenza. Vi ringrazio per l'ascoltio, il video termina qua, iscrivetevi, commentate, ciao ad andare a tutti i dati.